Deputato Lupi, stia tranquillo, non siamo qui a delincarle le pessime azioni che ha commesso come Ministro. Restituisca al popolo italiano i suoi compensi dell'ultima legislatura. Non morirà di fame per questo, piuttosto si arricchirà di dignità. Potrebbe usare anche il fondo dei nuovi parlamentari del 5 Stelle che destiniamo i nostri stipendi tagliati. È un atto dovuto verso quei cittadini onesti ingannati anche da lei, da vent'anni di immoralità, di bassa politica d'uso personale, di meeting pubblici e colloqui privati, di ostentazioni di fede cristiana e comportamenti da farisei, di adunate di comunione e liberazione e ristrette spartizioni di potere. La restituzione di questo malcolto, deputato Lupi, si scende dalle sue dimissioni. Smoke weed every day!